Io penso che del copywriter non si possa fare a meno. Dopodiché noi viviamo nel tempo della rete e nel tempo della duplicazione infinita e quindi è anche difficile, un po' come pensare di svuotare il mare con il mestolo o anche con il secchiello. Quindi credo che il tema del copywriter vada a posto cercando di declinare la tutela dei diritti degli autori considerando le novità della rete e anche il suo sviluppo. Voglio dire che ci sono delle forme come quella di Creative Commons che consentono l'utilizzo gratuito per fini non commerciali che mi pare rappresentino già un passo avanti da questo punto di vista. Dall'altro forse bisognerebbe trovare uno standard, una modalità per cui si può modulare il diritto d'autore anche a seconda del soggetto che utilizza un certo tipo di opera di ingegno. Non ho ricette o consigli particolari. Penso però che considerare un progresso il fatto di ignorare il diritto d'autore in realtà sia un po' come pestarsi i piedi o anche qualcosa di più delicato da soli. Nel senso che l'abolizione con l'indifferenza verso il diritto d'autore prelude all'eliminazione dei contenuti di qualità perché il diritto d'autore rimane tuttora la risorsa fondamentale attraverso la quale poi chi svolge un lavoro di creazione di opere dell'ingegno umano, se si parli di musica, di fotografia, di immagini, di movimento, di testi, di ricerca, rimane la risorsa principale che consente la prosecuzione di questo tipo di lavoro. Abolita quella forse si entra in un modo ideale ma francamente credo che a fare le spese saremo tutti. Qui siamo di fronte a un tema apparentemente molto complesso, poi cercherò di dire perché apparentemente. La complessità sta nel fatto che mai ci saremmo immaginati in un arco di tempo così breve ci fossero dei soggetti privati o anche delle istituzioni in grado di accumulare una quantità di dati semplicemente spaventosa, non misurabile, siamo costretti a inventarci delle unità di conto che non esistevano addirittura per quantificare o dare un'idea, un ordine di grandezza che peraltro è un ordine di grandezza che continua a crescere. Allora questa epoca della bulimia dei dati in realtà pone apparentemente dei problemi colossali di gestione ma per chi fa il mestiere del giornalista potrebbe anche diventare un'occasione di semplificazione del lavoro a condizione di muoversi dentro il mondo dei dati in un modo meno superficiale di quanto si sia fatto finora. Ora mi spiego, da un po' di anni si parla di data journalism e al fondo del concetto del data journalism c'è sì il fatto di valorizzare dei dati, c'è sì il fatto di saperli cercare, c'è sì il fatto di saperli organizzare. Quello di più che serve al giornalista, perché non dimentichiamo che stiamo parlando di una professione, di un mestiere che esiste in quanto ha un pubblico di riferimento, è la costruzione del contesto in cui mettere questi dati. Quello rimane nello specifico particolare del giornalismo. Quanto ha competenze diverse, certo che occorrono, il problema è di fronte a una voracità nell'accumulo e nell'immagazzinamento di questi dati, possiamo arrivare a delle norme generali che riconoscono un diritto professionale, che esercita la professione del giornalismo a entrare dentro i grandi archivi di chi conserva queste memorie sconfinate perché abbiamo capito che attraverso delle procedure illegali o irregolari comunque anche il più sicuro dei forzieri è scardinabile. Allora io penso che sarebbe più logico prendere atto della realtà e consentire un accesso ai big data meno pieno di ostacoli di quanto non sia e che consenta anche un livello di trasparenza rispetto alla gestione di chi li ha raccolti maggiore di quello che abbiamo ora. Ma guardi, si è fatto un grande scutere in questi anni di infotainment di diciamo imbastardimento, contaminazione tra modalità narrative diverse dico la verità, cioè io sono perché si sperimenti il più possibile laddove comunque è fondamentale difendere il principio della qualità dell'informazione se si dimentica questa priorità si rischia di combinare dei grandissimi pasticci comunicazionali e di generare dei messaggi distorti. Poi osservo che in realtà mentre noi discutiamo teoricamente di cos'è il Transmedia Storytelling c'è un soggetto che ne fa ampio uso e con grande efficacia negli ultimi mesi sto parlando dell'Isis, a proposito del linguaggio dei videogiochi sono abilissimi a utilizzare i video e come si è visto sono i loro più efficaci strumenti di propaganda perché dei videogiochi hanno mutuato completamente il linguaggio le modalità espositive, le modalità narrative tanto i loro video sembrano finti e somiglianti ai videogiochi tanto noi siamo terrorizzati perché sappiamo che sono veri sono esattamente quello che loro ci promettono oltretutto parlando un linguaggio che noi occidentali conosciamo bene che è il linguaggio domestico dei ragazzi che giocano ai giochi di simulazione ai giochi di guerra distribuiti e giocabili con le Playstation o anche con i nostri desktop a casa forse vale la pena di fermarsi e riflettere un po' di nuovo qui il tema non è che devono essere purgati i videogiochi però forse dobbiamo essere attrezzati anche e avere un atteggiamento critico verso questo tipo di cose un po' più raffinato, un po' più evoluto un po' più capace di cogliere al fondo il messaggio che ci arriva quel tipo di competenze di graphic design, di editing video devono entrare, stanno già entrando nella cassetta degli attrezzi di chi vuole fare questo mestiere, di chi si accosta a questo mestiere per chi è già dentro, per chi ha un'età venerabile come la mia vuol dire risettarsi la testa e imparare a prendere confidenza con degli strumenti che non sono particolarmente complessi in sé ma richiedono un approccio differente per decenni il giornalismo è stato o il giornalismo della carta stampata o il giornalismo televisivo o il giornalismo radiofonico con delle competenze tecniche a monte e a valle molto diverse cioè il lavoro del poligrafico, il giornalista della carta stampata non l'ha fatto fino al momento in cui è venuto in contatto con i sistemi editoriali digitali e allora ha cominciato a polsi il problema anche di come si costruiscono le pagine per la televisione fino a qualche tempo fa, non molto tempo fa era impensabile che il giornalista si montasse anche un servizio e adesso è quasi impensabile fare la televisione quella moderna quella leggera se non si è in grado di farlo e ugualmente anche per la radiofonia che è stata profondamente modificata dall'ingresso dei sistemi editoriali anche in questo caso è aperto anche delle possibilità espressive molto più grandi ci sono un vetario di competenze da assumere c'è da dire anche che dal punto di vista tecnico sarebbe carino, sarebbe assai utile se si cominciassero a sviluppare oltre che dei programmi specifici dedicati, utilizzabili nel giornalismo anche un codice, uno strumentario un linguaggio che permette un approccio più semplificato cioè che sarebbe utile che anche nel giornalismo vi gesse in principio dello user generated content cioè di un modo di vedere le cose dal punto di vista degli utilizzatori poi quello che fa la differenza fra il giornalismo diciamo del citizen journalism e il giornalismo professionale ripeto è il bagaglio di esperienze che si hanno è la capacità di declinazione di linguaggi specifici è la sensibilità del professionista è la capacità di contestualizzazione una volta era come dire fare giornalista dal punto di vista tecnico significava imparare a battere a macchina io ho avuto dei colleghi straordinari i miei maestri che scrivevano a macchina con un dito se fosse possibile arrivare a utilizzare delle telecamere professionali con quel dito forse avremmo risolto una buona parte dei problemi poi bisognerebbe cambiare la testa dei giornalisti a una certa età quello è più difficile io penso che bisogna fare un po' di chiarezza di fondo nel senso che un conto sono le competenze tecniche un conto è la familiarità con gli strumenti altro è comprendere che il giornalismo rimane tale qualsiasi piattaforma lo supporti ma ci sono delle specificità dei mezzi che si usano che vanno rispettate sempre non è che scadono perché siamo entrati nel terzo millennio faccio un esempio qualsiasi testo scritto fruibile su carta anche in rete ma particolarmente più su carta è un cattivo testo se contiene troppe ripetizioni quindi anche la struttura di quel testo la struttura di un articolo la costruzione anche di una notizia breve devono tenere conto di questo banale principio di fondo devono tenerne conto nell'organizzazione dei titoli e nella stesura di un testo quando si fa una notizia radiofonica e anche una notizia televisiva è il contrario perché la soglia di attenzione e le condizioni di fruizione di quella notizia di quel servizio di quell'intervista sono diverse se io leggo leggo e posso interrompere e riprendere il mio giornale in mano se io guardo quel servizio televisivo e intanto mi brucia il sugo mi occupo del sugo e non ascolto più il servizio se chi ha costruito quel servizio si immagina che possono esserci condizioni di questo tipo ripeterà dopo un minuto l'argomento di cui sta parlando se non se ne occupa fa un pessimo servizio a chi ascolta e alla testata per cui lavora questo come dire rimanendo sulla superficie delle cose poi nello specifico si può anche andare più a fondo e immaginare anche degli altri degli altri esempi ma ho fatto questo esempio giusto per sottolineare che per quanto si utilizzino i telefoni per fotografare le macchine fotografiche per fare riprese della stessa qualità delle videocamere HD videocamere HD per fare dei film addirittura il linguaggio basico il quale noi utilizziamo questi strumenti ha dei codici primari che vanno sempre rispettati mi viene da dire da bastia al contrario giornalismo per i quotidiani perché altrimenti ci si dimentica come si fa e invece io penso che nonostante il calo delle copie dei quotidiani continui drammaticamente noi non avremo un futuro senza la carta avremo un destino diverso per la carta stampata che rimarrà per lungo tempo comunque una nostra compagna di viaggio poi senz'altro uno dei corsi che stanno seguendo i nostri allievi che è video reporting per i siti di news coprendo una funzione che è sempre più adottata dentro le grandi testate e la loro declinazione online l'informazione di flusso quella ora per ora passa attraverso i siti sapere utilizzare il video come un mezzo semplice in grado di comunicare in realtà in quello che avviene è una specifica importantissima che richiede anche una delle capacità semplici che però vanno esercitate con grande rigore e il terzo mi viene da dire fotogiornalismo perché c'è una grande sottovalutazione ancora adesso di questo aspetto perché c'è un abuso dell'immagine e invece il linguaggio delle immagini è cruciale bisogna conoscere quando un'immagine parla e quando non parla quando è in grado di darci una notizia e quando è pura ripetizione quando smuove le nostre emozioni e quando invece è un pesce sul gelato e questo lo si acquisisce tramandando una capacità di esecuzione e di lettura di decodificazione dell'immagine educando i giornalisti al rispetto delle immagini e non all'utilizzazione delle immagini come corredo o come riempitivo di altro Io posso dirle come lavoriamo qua e come stiamo anche cambiando nel tempo questo è sempre stato un master molto orientato alla professione diciamo poco accademico per scelta questo non in dispregio dell'accademia assolutamente no ma noi abbiamo come dire per allievi dei ragazzi che come minimo sono già laureati spesso di lauree ne hanno due hanno certamente bisogno di perfezionare la loro formazione di aggiornarla come tutti compreso me però non è questo il punto non è fargli rifare un corso di storia contemporanea anche se loro lo fanno in realtà o come dire un corso di economia di macroeconomia piuttosto che un che altro un corso di letteratura comparata non è quello non è quello il punto queste scuole funzionano se stanno al passo con la realtà forse si riescono a fare un passo più avanti della realtà di mercato produttiva in cui dovranno inserirsi gli allievi che escono da queste scuole quindi questo cosa significa significa guardarsi intorno significa tenersi in rete informati significa per esempio che noi da due anni abbiamo avviato un corso che io considero straordinario con un collega che è diventato tale da non molti anni che lavora al Guardian e che per formazione era un geografo un esperto di mappe e che sta nel board del Guardian perché è insieme a un piccolo team di suoi colleghi una figura cruciale che è in grado di valutare quanto una notizia o un tema sia rappresentabile sulle piattaforme digitali rispondendo a un principio che molti dicono di adottare che in realtà in questi termini non è adottato in Italia che è quello del digital first allora questo signore è in grado di spiegare proprio perché ha la logica una logica di vedere come dire in essi i nodi la rappresentabilità di un grande tema proprio perché è la logica del geografo ha le mappe in testa cosa che i giornalisti non hanno allora portarlo qua fargli fare lezione spiegare ai nostri allievi che quello può essere uno è già uno dei nuovi approcci alla professione è stato molto importante così come noi abbiamo varato da un paio d'anni anche dei corsi di data journalism dove banalmente le persone imparano a utilizzare un foglio excel che in realtà è una miniera di dati applicata a delle banche dati che apparentemente non ci dicono nulla e qui torna il discorso sui numeri che facevamo prima io gioco con i miei allievi quando cominciamo a parlare dei numeri chiedo a tutti se considerano tanto o poco 1500 tonnellate di rifiuti e no perché il riferimento è a qualche anno fa quando ci fu l'emergenza di rifiuti a Napoli in generale anche se subordano che ci deve essere un trucco tutti mi rispondono 1500 tonnellate di rifiuti sono un mare di rifiuti una parte di verità c'è ma siccome la notizia anni fa veniva data con Napoli sommersa da 1500 tonnellate di rifiuti bisogna domandarsi se quel verbo sommersa ha un senso o non ce l'ha e in realtà non ce l'ha perché 1500 tonnellate di rifiuti è la raccolta di un giorno perché ciascuno di noi non se ne accorge e produce mediamente ma produciamo mediamente un chilo di rifiuti cada uno al giorno che fanno 1500 tonnellate e quindi certo non è solo del verbo della titolazione dell'impatto emotivo allora saper pesare i dati ripetersi tutte le volte che siamo davanti a un dato che i numeri non parlano da soli saper riconoscere ricostruire il contesto che li sostiene è cruciale soprattutto adesso che siamo nella società dell'informazione e siamo immersi nell'informazione o addirittura assediati dall'informazione entra un tema etico deontologico evidente evidente non bisogna come dire non bisogna smettere di ripeterlo ma più che ricordare quali sono le carte dei diritti dei doveri dei giornalisti il problema è esattamente questo cioè per chi lavora il giornalista per portare a casa uno stipendio purtroppo è sempre più difficile si lavora per fornire delle informazioni l'informazione ha a che fare con il bene pubblico allora ogni volta chiedersi che cosa sia il bene pubblico significa chiedersi se l'informazione che hai trovato ha un valore o non ce l'ha e in quale contesto si determina questo valore è un lavoro che come dire continuiamo a fare e meno male con qualche soddisfazione che Grazie a tutti.